Ho girato il mondo per trovarti, viaggiato attraverso le galassie, gli spazi siderali e gli abissi più profondi. Poi stanca mi sono seduta davanti a un semplice fiore. E in quel fiore, tu. Namaste. Mi chiamo Akashi e oggi vorrei raccontarvi la storia del libro Il viaggio di un'anima, come è nato. Il viaggio di un'anima è nato dall'amore per il mio maestro che si chiama Muji, ma io lo chiamo Guruji. Ed è nato in un momento in cui non conoscevo l'inglese e scrivevo ciò che emergeva dal mio cuore. E quindi sono nati questi poemi che poi abbiamo deciso di tradurre e li abbiamo dati a Guruji per leggerli, per condividerli e a lui sono piaciuti molto. E quindi abbiamo deciso di creare questo piccolo libro che si chiama appunto Il viaggio di un'anima con la benedizione del suo amore. E con il Tim e il Guruji abbiamo creato questo. Questa è la storia del viaggio di un'anima. Un libro benedetto dall'amore del maestro. Se dovessi vivere per un solo giorno, un solo respiro, un solo momento, fa che sia nella di un'anima verità. Grazie a tutti. Grazie a tutti.